Assessore Bini, nell'incontro con il vice governatore della provincia del Sichuan si è parlato di possibili accordi di collaborazione? Oggi abbiamo avuto un incontro piacevolissimo, un incontro nel quale ci siamo fatti conoscere entrambi e la cosa positiva è che sono uscite delle affinità incredibili da un punto di vista culturale, 5 siti UNESCO, lo Sichuan, 5 siti UNESCO, il Friuli Venezia Giulia, Sichuan forte per quanto riguarda, stimato per quanto riguarda l'enogastronomia, Friuli Venezia Giulia neanche parlarne, insomma abbiamo oggi scoperto che sono più le cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci dividono, quindi sicuramente ci saranno delle occasioni nei prossimi mesi di approfondire, c'è stato un impegno proprio ufficiale da parte del vice governatore dello Sichuan ma anche da parte nostra di approfondire un po' le tematiche in prospettiva, il porto rappresenta assolutamente un asset fondamentale di interesse ma non solo, abbiamo anche parlato molto di possibili sinergie da un punto di vista turistico, non dimentichiamoci che la provincia dello Sichuan ha circa 90 milioni di abitanti, una piccola percentuale in vista del Friuli Venezia Giulia porterebbe ad un incremento importantissimo degli indici di presenza. Zero D'Agostino, oggi nell'incontro con il vice governatore del Sichuan si è parlato di un possibile collegamento Trieste-Cendu. Sì, abbiamo fatto già stamattina un convegno internazionale sulla via della setta, un parallelo tra lo sviluppo ferroviario del porto di Trieste e quello di Cendu, come Cendu sta diventando una delle piattaforme ferroviarie merci più importanti dell'Asia, Trieste sta diventando una delle piattaforme merci più importanti dell'Europa e per cui da questo punto di vista facendo questo parallelo si è anche ragionato sul fatto che dovremmo e inizieremo a fare una serie di valutazioni per capire se ci sono i presupposti per sviluppare un treno diretto Trieste-Cendu.